Grazie a tutti voi, giornalisti dei giornali, siti, televisioni, saluto anche il nostro assessore Cosimo Luccione, poi ci raggiungerà anche forse l'assessore Cecilia De Vecchia e ora impegnate un altro appuntamento, saluto anche i consiglieri di Blas e Madre che sono qui grazie per la vostra presenza, è un periodo molto molto complicato, momenti difficili che mi stanno impegnando al massimo su fronte della ripartenza, proprio ora sono tornato dalla Galleria degli Uffizi che ha riaperto 85 giorni di chiesura, siamo molto impegnati sui problemi sociali, che si stanno verificando nella società, ci aspettano mesi di grande riscorso, però non ho voluto rinunciare a fare questa conferenza stampa più che altro per dire una volta per tutte alcune cose direttamente e personalmente, spero più chiara possibile e anche per quanto mi riguarda definitivi, perché io ho capito che è un infarto che non si è giocato e quindi non abbiamo avuto modo di commentare partite, risultati, classifiche e quindi è rimasto interna introsdata e quindi ci siamo per dire spizzati in questo argomento, anche se come sapete io sono sempre molto attento a non fare dichiarazioni inutili, parlare al vento, infatti mi piace molto più parlare di fatti che con le dichiarazioni, però ho letto tante cose, anche molte ricostruzioni che almeno per quello che mi riguardano, io non posso parlare di altri, mi sono sembrate non dei ripieni e quindi spero di fare un servizio a tutti voi, dicendomi direttamente quello che io penso e che intendo fare per il futuro, per il vento di Firenze, perché il mio compito di sindaco sono stato eletto un anno fa con il 59% dei voti e quello di fare bene la città prima cosa, allora anche io sto molto, ed è già un anno che sto molto, fin dal primo giorno in cui insieme siamo andati al Franchi in un clima bellissimo, di grande festa e ogni giorno allora ho sostenuto con grande sincerità e anche convinzione l'idea di operare di Rocco quindi mi associo a tutti coloro che hanno messo striscioni, manifesti, che poi lo faremo anche lo faremo anche qui a Palazzoletto quindi nonostante che in questi giorni ci siano state ricostruzioni su frizioni di ogni tipo vorrei scontrare il campo da volte per tutte, se è necessario, se è utile io da un anno a questa parte sono sempre stato con Rocco e anche oggi sto con Rocco ho per Rocco Pumissi, la sua famiglia, il suo amore, il suo figlio, il massimo rispetto e verso di lui è il suo team la massima combinazione a partire da Giuseppe Barone che è una persona squisita, molto seria con la quale non ho mai smesso di rimanere in contatto anche nelle ultime ore purtroppo questi mesi di lockdown ci hanno costretto a rimanere separati e quindi non ho potuto incontrare il patron della Fiorentina anche se ci siamo sentiti, ci siamo sentiti più di una volta al telefono e voglio dirvi che lo aspetto a Firenze a braccia aperta spero che venga più presto, che questa maledetta pandemia finisca perché so quanto lui abbia voglia di venire qui, ve lo ha detto tantissime volte e anch'io ho voglia di salutarlo e di abbracciarlo metteremo la mascherina, se sarà ancora necessario e sicuramente come sempre parleremo di idee, di progetti e di tutte le altre cose quindi io non ho perso l'entusiasmo dal primo giorno in cui è ripartita questa avventura sapete bene che da sindaco ho vissuto momenti molto delicati ben più complessi di questi a proposito degli ultimi anni della precedente proprietà e però sempre mantenuto la barra dritta sul rispetto dei tifosi della società e sul bene della mia città e così continuerò a fare la questione dello stadio allora come voi stessi avete detto tante volte credo anche un vostro collega sul sito ha ricostruito fedelmente il dibattito sullo stadio e mi ricordo benissimo la prima del libera del anno approvano la dichiarazione di interesse pubblico per il nuovo stadio e inizia a lavorare con pazienza e voi siete testimoni perché mi avete scritto con la promessa di attore, la famiglia di Davalle per l'obiettivo del nuovo stadio e la libera che fu individuata nel 2012 e siamo andati avanti per quattro anni poi con l'arrivo della nuova proprietà sono cambiate alcune cose e ci siamo rimessi da poco senza fermarci in poco più di 10 mesi il mio comune ha fatto cose che non ha fatto nessuna città in Italia vi prego anche di verificare ragazzi che mi sbaglio nessuna amministrazione pubblica ovvero una variante urbanistica una perizia e un valido pubblico per la realizzazione di nuovo stadio non mi risulta ma lo stato attuale che in 10 mesi altri comuni italiani da nord a sud avevano fatto una basaggia questo solo per diciamo ricostruire quello che è stato fatto in questi anni dopodiché lo dico con grandissima serenità ma veramente la massima serenità possibile perché è quella che ho sento detto la vicenda è andata e ora si va avanti peraltro il tempo trascorso non è il tempo trascorso in vano perché la rete umanistica che abbiamo approvato nel Consiglio Comunale serve comunque per la realizzazione del nuovo polo del mercato della merda noi andremo avanti su quello quindi avremo comunque dovuto disporre di strumenti mi sentite lontano un po' di eco cerco di parlare chiaramente di strumenti umanistici per fare il nuovo mercato generale e quindi voglio rassifrare le decine decine di imprese che peraltro stanno soffrendo questa crisi la mia città i fiori pimpi che è sull'impegno preso per la merca fin per il mercato e poi andiamo avanti ovviamente siamo pronti ad andare avanti per lo stare in altre direzioni che prendiamo anche di quello che è successo ora anche vi vorrei dire un'altra cosa che per me è sempre stata ascoltata però vale la pena ribadire e sarebbe anche utile che tutti i loro dicessero lo scrivessero e lo dico rivolgendo niente così alla città la proprietà della Fiori Pimpi ha la libertà di valutare qualunque ipotesi per lo stadio della squadra e di presentare qualunque progetto questo è un diritto sacro santo che io non posso non muovo assolutamente contestare certo di dirlo con la massima chiarezza così come io non ho francamente nessuna irritazione gelosia o invidia per altri comuni che vogliano provare a proporsi per realizzare lo stato ci manchia più di altro ci manchia più di altro quindi sono sereno questo è il mio stato d'animo ed è il modo con cui noi abbiamo lavorato finora e con cui viene maturato ovviamente da sindaco di Firenze io ho sempre avuto la priorità di lavorare per la mia città quindi per Firenze e per la Fiorentina e so che almeno finora anche la proprietà è sempre stata diciamo di questa idea di fare qualcosa per Firenze e per la Firenze se la proprietà vorrà mantenere lo stato in Firenze io sarò sempre pronto a fare tutto quello che si potrà fare con il massimo tempo totale dedizione mia dei miei assessori e della mia squadra a cominciare dal lavoro sul Franchi perché è sempre lì e nel sempre lì che continueremo a giocare e sulla cittadena di Campo di Manico quindi io sono prontissimo ovviamente mi riferisco alla riqualificazione di tutta l'area di Campo di Manico che è un obiettivo che è nel mio programma elettorale di mandato ve lo ricorderete è nel programma di mandato non è una cosa che tiro fuori ora perché magari sono usciti tifosi eccetera no è sempre stato il nostro obiettivo riqualificare la cittadella di Campo di Marte perché quella è la storia della nostra città dello sport nazionale ed è la storia del calcio è lì che la Fiorentina ha vinto i suoi due studenti e che si sono formate in generazioni di flussi in più aggiungo che l'area di Campo di Marte è una delle aree più freggiate di tutta età dal punto di vista delle aree sportive e dal punto di vista economico e commerciale quindi per me quell'obiettivo è un campo ora ovviamente vale più che mai quell'obiettivo dopo quello che è successo in questi mesi non sono come dire non ho un paraocchio che mi rende conto della sua nazione quindi come sindaco di Firenze che deve fare il per di Firenze è concentrato sono concentrato su questo massimo rispetto per le istituzioni io andrò avanti ad oltrezza nei confronti della sovrintendenza nei confronti del Ministero per i beni di attività culturali nei confronti del governo e del Parlamento perché credo che nessuno si possa permettere di abbandonare uno stadio e un'area sportiva di quel pregio di quella storia perché è considerato sono considerati dei monumenti da non toccare e sono un vittime in questa mia impegno ad oltrezza avrò sempre più persone che mi sosterranno ripeto a prescindere dalle decisioni legittime giuste libere diciamo della proprietà a proposito della questione degli stadi io torno a dire una cosa cari attrici vorrei che lo dicessero tutti anche voi qui non c'è un problema a Firenze c'è un problema in italiano ed è uno scandalo che c'è che la nostra